buongiorno a tutti ragazzi eccoci arrivati con un nuovo video sul canale questo video oggi parla di una cosa interessante perché sono andato a prendere alcuni dei vostri commenti dell'ultimo periodo ho visto che qualcuno di voi chiedeva del fattore cross cambi base eccetera eccetera sul forex ma anche il fatto che molti di voi spesso vanno a fare trading su cross minori e non hanno magari ben presente la big picture o comunque la struttura dei mercati base perché dico questo dico questo perché su sul forex è molto molto importante valutare sempre che ci sono delle correlazioni matematiche che possono esserci d'aiuto proprio a supporto della nostra operatività allora qui davanti come potete vedere ho il grafico di euro sterlina euro sterlina è un cross per chi magari non lo sapesse questo cross è formato da euro dollaro metto qua e da sterlina dollaro questi due cross vanno a creare e scusate questi due cambi scusate l'errore questi due cambi vanno a formare il cross euro sterlina quindi euro sterlina è un cross ok non è un cambio base o io chiamo anche cambio nativo proprio perché tutti quelli col dollaro per me sono cambi nativi o cambi base cioè cambi da cui possono essere generate ulteriori coppie di valute che sono poi gli incroci valutari io infatti nella mia watch list se voi andate a vedere qui ho i principali sette col dollaro americano quindi euro dollaro sterlina dollaro dollaro yen australia dollaro dollaro canada e non zelanda dollaro dollaro franco questi sette qui sono i miei sette cambi principali e sono quelli che analizzo giornalmente analizzo settimanalmente li guardo costantemente e quindi potete ben capire che se la correlazione è matematica tra i cambi nativi tra i cambi base e i cross una volta che si si decide oppure perché c'è una situazione interessante su un cross avendo ben chiara qual è la la struttura la dinamica di volatilità una serie di cose studiate sul cambi base è ovvio che ci viene probabilmente molto più facile andare a tradare il cross perché il cross è vero che ci può dare un'idea di fondo ci può dare magari un input operativo ci può dire alcune cose ma se non è confermato magari da un certo tipo di dinamica sui cambi base potrebbe essere magari ecco quell'indicatore diciamo così la correlazione a supporto e vi assicuro che è molto importante infatti il forex per questo devo dire che è il mercato numero uno perché nessun mercato come mercato delle valute ha una correlazione così importante ecco facciamo un esempio proprio andando a prendere il grafico appunto di euro sterlina e noteremo che euro sterlina appunto è un cross prendiamo proprio il grafico delle ultime settimane tanto per farvi capire questo grafico weekly questo è il ritracciamento che ha fatto da praticamente l'ultimo mese praticamente da fine luglio a la settimana scorsa ha avuto un ribasso lieve non pesantissimo però è partito da 0 91 e 30 ed ha avuto dei minimi qui a 0 90 0 88 80 questa zona qui quindi ha fatto questo movimento short seppur con una dinamica di ritracciamento andiamo a vedere cosa è successo sull'euro dollaro nella stessa situazione adesso lasciate stare con un po di studi qui guardate l'euro dollaro nelle ultime settimane ha subito una fase rialzista non così intensa quindi una fase rialzista con massimi arrotondati no vedete quindi questo questo significa che c'è una un indebolimento diciamo della struttura dei prezzi e la sterlina dollaro prendiamo sempre il weekly guardate nell'ultimo periodo c'è stato questo indebolimento nell'ultima ma non così chiaro per esempio abbiamo avuto questa barra di volatilità che ha parlato sui prezzi quindi se prendiamo anche qui le ultime settimane diciamo che seppure è salito come l'euro dollaro ha avuto un po più forza allora andiamo a vedere euro dollaro così euro sterlina dollaro così nell'ultimo 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 quattro cinque settimane euro dollaro così vedete quindi sempre salita ma molto più lenta sterlina dollaro così salita un po più ampia euro dollaro salita un po più lenta e quindi quindi euro sterlina cosa ha fatto ha fatto una discesa non troppo ampia perché abbiamo euro dollaro che saliva sterlina dollaro che saliva ma sterlina dollaro ha avuto un po più di forza rispetto all'euro dollaro e quindi è inevitabile ed è matematico che il prezzo di euro sterlina avesse quindi se la sterlina sul dollaro ha avuto un po più di forza come abbiamo notato su euro rispetto a euro dollaro è ovvio che l'euro sterlina che è il cross dei due che prende entrambi ha ribassato perché in questo caso significa che la sterlina ha preso un po più di valore rispetto all'euro questo qui spiegato in questo modo molto semplice diciamo è la dinamica che noi dobbiamo andare a vedere quando valutiamo anche di fare dei cross quindi diciamo che questa potrebbe essere uno dei primi video dove magari possiamo parlare di correlazioni in maniera cercando di arrivare un po a tutti a livello operativo questa cosa può esserci molto utile e utile anche nel fatto di fate attenzione a tradare i cross non solo per dal punto di vista degli spread che spesso sono magari più ampi non sto parlando di euro sterlina euro yen o sterlina yen che sono gli unici tre cross tendenzialmente che io vado a vedere ma sto parlando di cross come sterlina franco neozelanda yen e tutti questi qua no? che sono cross che spesso anche aumentano gli spread e hanno comunque delle dinamiche di volatilità molto diverse e in più sono influenzati da una coppia di valuta in più da una valuta in più no da una coppia di valuta in più da una valuta in più perché se io devo analizzare l'euro dollaro vado a se compro l'euro dollaro significa che per lo studio che ho fatto questo a mio avviso ci può essere un rialzo del prezzo dell'euro nei confronti del dollaro quindi euro dollaro che cresce se vado a tradare euro sterlina dovrò stare attento al movimento di euro dollaro e sterlina perché euro dollaro e sterlina insieme vanno a creare il movimento di euro sterlina quindi il cross può essere interessante ma dobbiamo conoscere molto bene i cambi base o i cambi nativi questo è il video di oggi spero di essere arrivato spero anche di avervi dato uno spunto quindi di controllare di seguire principalmente i cambi base per poi se si va negli altri o comunque in alcuni cross avere la consapevolezza di come stanno lavorando di cosa stanno facendo i cambi nativi direi che per oggi è tutto io vi auguro una buona continuazione di giornata noi ci vediamo al prossimo video ovviamente nel prossimo video parleremo sempre di tematiche riguardanti il forex riguardanti il trading vi chiedo se vi è piaciuto il video di mettere un mi piace se non siete ancora iscritti al canale di iscrivervi al canale io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti